Buongiorno a tutti. Quest'anno vi spiego la storia della Madonna. Oggi è il quince le cose, le scensioni in Cielo. Il quince cose, le scensioni in Cielo, la Madonna dell'Usognis, che è in Cielo corpo e anima. Quando Gesù stava sulla croce, disse a Maria, che c'era il grande Giovanni, vicino a Maria, disse, mamma, questo è il tuo figlio, figlio, questa è la tua mamma. Perché? Perché la Madonna è la mamma celeste, le mamme di tutti noi. Oggi questa festa di Cotognani, il quince cose, questa è la festa di tutto il mondo, in tutte le nazioni. Io vi amo un buon fare posto a tutti voi, perché queste feste riguardano veramente per la vera mamma, la mamma celeste. Adesso benediciamo questo quadro della Madonna. In questo video c'è anche una cartoncina di Samway. Il grande profeta, il Dio è per noi. Ragazzi, che mi devo dire? Oggi per me è una grande festa, una festa in Cielo, una festa di tutto il mondo.